Pronti? Musica! Iniziamo, apriamo e chiudiamo. Spalle e dietro. 1, 2, 3, 4. La Zumba è stata inventata da Beto Perez altissimi anni fa, ormai saranno più di 15 anni che è sul mercato. È arrivata in Italia più o meno nel 2007-2008 e ha tanti benefici la Zumba. La prima è quella di far divertire le persone, infatti lo slogan della Zumba è proprio fare un party in palestra. E la seconda ovviamente è di far dimagrire le persone. Perché fa così tanto dimagrire le persone? Perché dato che in una lezione ci sono svariate coreografie, si parte dal merengue alla salsa, alla cumbia, al reggettono, alla baciata, e tutte queste musica hanno tutti i ritmi diversi, e quindi il cuore, pompando il sangue in maniera diversa, riesce a far smaltire dalle 800 alle 1200 kcal in un'ora, ovviamente fatta bene. E quindi la gente suda, si diverte e quindi dimagrisce. La Zumba ci sono tante specialità, infatti c'è anche la Zumba per bambini, la Zumba Gold che è la Zumba per gli anziani, quindi è meno saltata, meno ritmata. Per poi passare al Zumba più svariato, c'è la Zumba Toning che è la Zumba con i pesi, la Zumba Sentau fatta con la sedia e la Zumba Step che si fa con il gradino per terra. Io vi ringrazio per questa bellissima lezione di Zumba e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!